questa sera si sta per concludere il nostro secondo food experience qui durante il fuori salone in via tortona un successo incredibile di pubblico 15 mila persone registrate molte altre hanno fatto la fila fuori sperando di poter entrare 41 tra sponsor e partner commerciali 37 show cooking di chef stellati e no e 2300 piatti serviti oltre le degustazioni e naturalmente a tanti altri aperitivi che abbiamo offerto in questi giorni questi giorni sono sfilati chef differenti per loro cultura tecnica abbiamo vissuto veramente un mondo interessante dove abbiamo conosciuto le identità territoriali di molti paesi la tecnica di chef stellati e anche le ricette di sale pepe tutto in un'alternanza continua di show cooking e dimostrazioni e il pubblico credo che abbia gradito moltissimo perché ha corso numeroso e naturalmente ha assaggiato golosamente tutto quello che abbiamo offerto visto il successo di questa edizione noi sicuramente siamo pronti a farne un'altra probabilmente in autunno e perciò vi aspetto numerosi un arrivederci probabilmente a settembre grazie grazie grazie